Il tuo consulente agrometeo ti dà il benvenuto su Agro Notizie, il tempo previsto per questo fine settimana. Insiste sull'Italia fino a venerdì, l'alta pressione, quindi venerdì è ancora una scialba giornata invernale. Sabato e domenica invece si affaccia sulla penisola all'avanguardia di una perturbazione atlantica la quale debellerà l'alta pressione e darà avvio ad una fase invernale che durerà per tutta la prossima settimana. Ma andiamo nei dettagli e come potete vedere venerdì ancora piogge su Calabria Tirenica e Toscana, bello invece sul resto dell'Italia, debole nevicate sulle Alpi per una perturbazione che lambisce le Alpi e diretta verso i Balcani, temperature ancora al di sopra della Meglia. Andiamo a sabato, arriva l'avanguardia della nuova perturbazione e come potete vedere porta nuvole su gran parte dell'Italia, piogge sulle regioni di nord-oveste e sulla Toscana, però ancora temperature al di sopra della Meglia. Domenica la perturbazione atlantica porterà piogge su tutto il nord Italia e Toscana, le temperature scenderanno al nord e resteranno ancora al di sopra della Meglia al centro-sud. Bene, termino qui, ancora un caro saluto da Mario Gioliacci.